ciao a tutti oggi prepareremo la torta vortice alla nutella il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa gli ingredienti sono nutella farina di tipo 00 cacao amaro zucchero yogurt alla nocciola olio di semi di arachidi uova lievito per dolci vanigliato vanillina e sale diamo il via la ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere lo yogurt la farina il cacao l'olio di semi di arachidi le uova il sale la vanillina il lievito ed azionare il bimbi per due minuti a velocità 5 versare il composto in una tortiera da 26 centimetri bene imburrata abbiamo messo la nutella in una sacca poche adesso partendo dal centro formare un vortice facendo due strati cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 45 minuti la torta è cotta lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo spolverizzare con zucchero a bella e servire torta ortice alla nutella grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti Grazie a tutti.